Ciao ragazzi, finalmente è uscita la quarta stagione di Miraculous in italiano Ovviamente non è ancora uscita tutta, però sono già usciti gli episodi Sensi di Colpa che si chiamava prima Guiltrip e Queen Banana che, boh, penso si chiami comunque Queen Banana che in italiano e Origina Banana, boh, fate un po' come volete voi e in questi giorni stanno uscendo praticamente tutti gli episodi della quarta stagione in italiano che erano già usciti nelle altre lingue quindi se andate nel primo link in descrizione trovate subito il canale Telegram dove potete subito vedere questi episodi e poi c'è il gruppo e il profilo Instagram e niente, ditemi se siete felici che finalmente, dopo tutto questo tempo, è uscita questa quarta stagione in italiano appena, proprio appena esce il doppiaggio, proverò subito a mettere l'episodio il prima possibile quindi rimanete aggiornati per gli altri episodi e mi dispiace che li stanno mettendo un po' a casaccio infatti Queen Banana non è il primo che invece è l'ottavo episodio, se non sbaglio e Guiltrip invece è l'undicesimo quindi sarebbe stato meglio se avessero iniziato da Traz, poi Lais e tutti gli altri però, vabbè quindi niente fatemi sapere cosa ne pensate, se li avete già visti e noi ci vediamo alla prossima bella raga